carissimi fratelli e sorelle buona giornata iniziamo il lunedì santo con la nostra preghiera davanti al presepe pasquale questo segno che ci accompagna in questo tempo così speciale in quella che nell'antichità veniva chiamata la grande settimana nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen la pace sia con voi oggi iniziamo la nostra preghiera con le parole del salmo 26 il salmo che ci propone la liturgia nella messa di oggi il signore è mia luce e mia salvezza di chi avrò timore il signore difesa della mia vita di chi avrò paura quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere se contro di me si accampa un esercito il mio cuore non teme se contro di me si scatena una guerra anche allora ho fiducia sono certo di contemplare la bontà del signore nella terra dei viventi spera nel signore sii forte si rinsaldi il tuo cuore e spera nel signore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen spera nel signore il motivo della speranza accompagni tutta la nostra giornata il brano del vangelo che vogliamo ascoltare lo prendiamo dal vangelo secondo giovanni capitolo 12 se siete accanto al presepe pasquale potete prendere la bibbia che avete deposto in esso e andare al vangelo secondo giovanni e ascoltare e leggere con me il brano del capitolo 12 di giovanni dal versetto 1 mentre lo trovate vi dico che è un brano che si trova all'inizio del racconto della passione dopo la risurrezione di lazzaro gesù ritorna nella casa dei suoi amici maria marta e appunto lazzaro si ferma con loro a cena e dopo questo episodio è raccontato l'ingresso messianico di gesù in gerusalemme leggiamo il brano di 12 vangelo secondo giovanni dal versetto 1 sei giorni prima della pasqua gesù andò a betania dove si trovava lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti e qui fecero per lui una cena marta serviva e lazzaro era uno dei commensali allora maria prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso ne cosparsi i piedi di Gesù poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo allora giuda escariota uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo disse perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri disse questo non perché gli importasse dei poveri ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa prendeva quello che vi mettevano dentro gesù allora disse lasciala fare perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura i poveri infatti li avete sempre con voi ma non sempre avete me parola del signore l'unzione di betania quale momento più bello dopo la risurrezione di lazzaro dopo aver condiviso la sofferenza quello di una cena che marta prepara per gesù tutta la famiglia è lì riunita marta maria e lazzaro ma maria compie un gesto che può sembrare folle 300 grammi di profumo di puro nardo un profumo molto prezioso 300 grammi costavano davvero tante giornate di lavoro bisognava aver messo da parte tanti risparmi e maria sa che vale la pena prendere questo nardo e ungere i piedi di gesù sprecare sprecare tutto quello che aveva per il signore per un grande senso di gratitudine le aveva restituito il fratello lazzaro restituire la vita è la cosa più grande che si possa fare quella che può fare magari un medico con le sue cure in un ospedale quello che può fare una persona che educa un'altra e la toglie da una situazione di disagio solo gesù può ridare la vita in pienezza e verso di lui maria ha questo gesto di follia che viene definito uno spreco da parte di giuda gesù invece lo apprezza perché dice costei ha preparato il mio corpo per la sepoltura ha avuto nei miei confronti un gesto delicato che voi non comprendete ma lo comprenderete fra poco cari fratelli e sorelle il santo spreco mi fa pensare a due a due situazioni la prima è una categoria ma mi piace chiamarla una vera e bella parte del popolo di dio e poi un pensiero che ho ascoltato della messa di ieri di monsignor del pini anzitutto voglio rivolgermi pensando al santo spreco alle suore sono presenti nelle nostre città in maniera silenziosa ed efficace hanno molte volte le nostre scuole dove educano i bambini più piccoli o hanno le case di riposo dove custodiscono i nostri anziani penso alle case di riposo di orta nuova e a quella di ascoli satriano penso alle tante scuole materne ed elementari penso alle suore che si occupano della carità le figlie della carità o quelle che operano nell'oratorio le salesiane oppure quelle che semplicemente ecco sono lì come presenze discrete nelle nostre comunità parrocchiali grazie a dio in quasi tutte le nostre comunità cittadine ci sono delle suore sarebbe bello averle ovunque ecco a loro oggi io ho scritto dicendo queste parole che avranno poi il tempo di meditare immagino che anche le vostre case in questi giorni abbiano acquistato una dimensione più domestica come quella da cui un giorno siete uscite per rispondere alla vocazione di ogni creatura quella di lasciare il proprio padre la propria madre per costruire una nuova famiglia la vostra famiglia è davvero speciale c'è uno sposo ci sono tante sorelle che condividono lo stesso amore e le stesse scelte c'è una missione i giorni si sono fatti più lunghi nelle vostre comunità le sorelle anziane forse gioiscono di avere le più giovani accanto a loro finalmente più libere da tanti impegni di apostolato le sorelle più giovani sono entrate in un nuovo ritmo di vita nel quale stanno forse riscoprendo che non è tanto importante quello che si fa in una comunità ma quello che si è se in qualche ora del giorno si sentiranno inutili sarà per ritornare a quel primo amore che non ha chiesto loro di fare qualcosa ma soprattutto di consacrare la loro vita a lui ed ecco ora arriva la pasqua sono i giorni in cui potete rinnovare le parole del cantico dei cantici il mio amato è mio e io sono sua egli pascola fra i gigli l'uno per l'altro è il senso della vita consacrata care sorelle i giorni della pasqua siano i giorni del ritorno al vostro primo grande e unico amore gesù cristo voi potete chiamarlo davvero lo sposo a lui avete consacrato la vostra vita e man mano che passano gli anni ecco sentite che quel santo spreco non è inutile è tutto per il signore questo sposo così grande e così speciale io vi auguro di vivere questi giorni della settimana santa in una letizia in una consolazione grande buona pasqua a voi buona pasqua alle vostre comunità a coloro che sono più anziani a coloro che sono più giovani a coloro che sentono magari il peso degli anni e di qualche malattia sentano che il loro sposo in questo momento le abbraccia più forte cari fratelli e sorelle pensiamo a queste donne che sono state chiamate a consacrare la loro vita al signore e ringraziamo che siano un segno in mezzo a tutto il popolo di dio di che cosa significa amare perdutamente e per sempre ogni vocazione possiamo dire è stata donata al signore perché indichi qualcosa di grande dell'unica vocazione cristiana e prima della preghiera alla madonna di ripalta voglio ricordarvi un episodio che ieri è stato citato dal dall'arcivescovo di milano nell'omelia in duomo di monsignor del pini racconta uno dei detti dei padri del deserto questi uomini dei primi secoli che si ritiravano in egitto e sprecavano possiamo dire tutta la loro vita per il signore racconta che un padre agatone si rivolse a abba antonio il nostro sant'antonio abate dicendogli padre nella città infuria l'epidemia c'è bisogno di aiuto perché infuria il contagio e allora abba antonio gli disse va pure ma per prima cosa scava un pozzo e agatone in tutta fretta si mise a scavare un pozzo dopodiché disse ho finito posso andare ad aiutare per il contagio per l'epidemia e abba antonio fermati ancora semina il grano e poi potrai andare e così agatone in pochi giorni seminò il grano nel terreno del monastero e poi disse fu in furia davvero il contagio c'è bisogno di aiuto e gli disse prima di andare raccogli i detti dei santi padri in un libro e poi potrai andare finita quest'opera ecco agatone disse posso andare ora e abba antonio gli concesse per obbedienza di andare ad aiutare coloro che erano contagiati di epidemia ad alessandria dice il testo dei padri del deserto che di agatone non si seppe più niente ma certamente i monaci continuarono a dissetarsi all'acqua di quel pozzo che era stato scavato a seminare e a mangiare il grano di quei campi e a nutrirsi spiritualmente dei detti del padre del deserto cosa significa questa storia questo detto dei padri del deserto che in questo periodo ciascuno di noi può fare qualcosa c'è chi può correre ed è una cosa bellissima se lo facessero in tanti a soccorrere i poveri penso alla caritas e associazioni di volontariato ma c'è chi fa altro l'importante è fare tutto per amore e per gli altri non ci sembri uno spreco perché ciò che si fa per amore di dio ciò che si fa per carità del prossimo non è mai uno spreco e affidiamoci alla madonna di ripalta vergine bella madre dolcissima di ripalta nostra potentissima avvocata e protettrice il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie del tuo amore per noi la tua immagine luce conforto e sollievo e gioia la nostra povera vita ripiena di insidie di amarezze noi perciò in te confidiamo stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'ofanto ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale fa piovere su di noi le acque della divina grazia perché vivendo qua giù la tua vita d'amore possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli lo speriamo e così sia salve regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo essuri figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime or su dunque avvocata nostra rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria cari fratelli e sorelle da oggi potete trovare sul sito della diocesi e sulla pagina facebook della diocesi tre video che un nostro sacerdote don giuseppe ciarcello il parroco di san domenico ha preparato per i ragazzi e per le famiglie sono tre video che spiegano come poter preparare i momenti di preghiera nelle nostre tre serate delle tre giornate del giovedì venerdì e sabato santo ecco viene affidato questo video ai genitori in modo tale che giorno dopo giorno magari ecco al mattino preparano già tutto coinvolgono soprattutto i più piccoli però ricordiamo questi momenti di preghiera non sono cose per bambini scusate l'espressione ma sono momenti per famiglia per questo anche se non si può seguire alle otto meno un quarto questo momento possiamo registrarlo e poi viverlo con tutta la nostra famiglia quando riteniamo meglio magari prima di pranzo magari quando la sera siamo tutti a casa l'importante è che sempre di più in questi giorni le nostre case siano chiese domestiche e accada come nella casa di betania che il profumo di quel santo spreco riempia tutta la nostra dimora e il profumo dell'amore di dio e il profumo della presenza del signore il signore sia con voi sia benedetto il nome del signore il nostro aiuto è nel nome del signore vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen buona giornata a tutti buon lunedì santo